Mi chiamo Giuliana Morelli, sono nata il 16 maggio del 1955, ho compiuto ieri 69 anni e abito a Padernione. Com'è cambiato il paese? Ma è un po' cambiato, esteticamente le case sono sistemate, sono ristrutturate, c'è un altro aspetto, le strade lo stesso, sono abbellite con dei fiori, non si sente più la puzza che una volta sotto la casa c'era la stalla, me lo ricordo, c'erano i volti che erano aperti, noi entravamo a curiosare, a vedere cosa ci poteva essere, la maggior parte avevano anche le galline, i conigli, la parte di Barbazà non c'era, era tutta campagna. Com'è cambiata la viabilità? Anche la viabilità è cambiata, una volta nel paese di Padernione passava la strada principale e c'era tanto traffico, poi è stata fatta una variante e il traffico è diminuito molto, adesso passano le persone che abitano in zona. Che ruolo rivestiva la roggia? La roggia passa nel centro di Padernione, era lo scroscio d'acqua che veniva giù da Avezzano e hanno rifatto gli argini della roggia perché l'acqua ha corroso i muri e facendo gli argini è diventata anche una cosa bella da vedere. Nell'anno in cui c'è stata l'alluvione di Trento, proprio lì sotto casa mia, è traccimata perché c'era tanta acqua e è uscita fuori, insomma, solo una volta mi ricordo. Abitavate in casoni o in case singole? Alla maggior parte avevano tutti la casa, casa singola. Le case erano grandi o piccole o normali? Ma erano abbastanza grandi perché noi avevamo sempre stanze in più, gli chiamavamo i cameroni dove andavamo su o servivano per deposito, chi aveva il grano, chi aveva l'uva per appassire, per poi fare il vino santo, si mettevano sui grappoli d'uva in questi solai. E allora il momento, come posso dire, voglio dire che c'erano delle stanze in più dove noi potevamo andare a giocare. In vostro tempo ai supermercati c'era come il miele, come costavano più o meno? Ma c'era, a Padernione c'era la bottega, che c'era un po' di tutto e vendevano anche le cose sfuse, non era tutto confezionato come adesso. Si andava addirittura in negozio con la scodella per comprare gli sgombri, lo sai cos'è lo sgombri? E' un pesce, cioè compravi la cioccolata, la nutella sciolta, ne compravi un etto, due etti e te la mettevano in una carta. In proporzione probabilmente costava, perché non è che potevamo permettercelo spesso. Ogni tanto ci comprava un po' di cioccolata o le caramelle, quelle cose lì. Non è che si andava e avevo voglia della cioccolata piuttosto che le caramelle si prendeva. Ci si pensava un po' se era possibile. C'era l'euro? Eh no, l'euro, non ti ricordi? No, forse no, è stato nel 2001 mi sembra. C'era il parco giochi? No, non c'era il parco giochi. C'era la scuola primaria SSI, dove era situata? La scuola primaria c'era, adesso nella scuola primaria c'è il supermercato. La nostra scuola primaria aveva tre aule, in una c'era la prima e la seconda. Nella seconda aula c'era la terza e la quarta e nella terza aula c'era solo la quinta. E la maestra si occupava un po' di una classe e un po' dell'altra. C'era solo una maestra? In quinta c'era un maestro, perché i ragazzini erano già grandi e forse una presenza maschile li facevano sentire più grandi, più maturi, pronti per andare alle scuole medie, penso. Quanti bambini frequentavano la scuola? Quanti saremo stati? Della mia classe eravamo in sette, otto. C'erano delle classi anche più numerose, dieci, dodici, perché c'erano più bambini una volta nei paesi. Adesso di preciso non me lo ricordo. Ma i maschi e le femmine erano divisi o stavano insieme? Ma in classe no, eravamo insieme. Fino a quale classe si andava a scuola? In generale, io ho fatto anche le medie, le scuole medie, e le superiori erano facoltative, perché l'obbligo era fino a 14 anni. Allora, le elementari le avevo fatte a Padernione, poi sono diventata grande e sono andata alle medie a Vezzano. Che materie c'erano a scuola? Ah, le materie più o meno come le vostre, forse meno che le vostre. C'erano applicazioni tecniche, che le femmine si occupavano del cucito, e i maschi facevano lavori con legno, con compensato, non so come si chiama, col traforo, ritagliavano, facevano lavoretti così. Facevi sport? No, non si faceva ginnastica a scuola, alle elementari non si faceva. Lo facevamo perché eravamo sempre fuori, all'aperto, allora si correva, è come fosse stato uno sport. Ti piaceva andare a scuola? Abbastanza, non tanto, abbastanza. Era un punto di ritrovo anche con le amiche, per stare insieme. Qual era la tua materia preferita? Forse le applicazioni tecniche, mi piacevano i lavori manuali. A scuola c'era la mensa o si mangiava a casa? Ah, si mangiava a casa, non c'era la mensa. Quando andavo a scuola io, si andava al mattino, finivamo alle undici e mezza, si andava a casa a mangiare, poi ritornavamo alle due, fino alle quattro. Quante ore si stava a scuola? Calcola un po', dalle otto alle undici e mezza, tre ore e mezza, più due ore al pomeriggio. Come erano i tavoli? Da due o da uno? Erano da due, eravamo in due, in un banco. Come erano le penne? Biro, come adesso. Avevamo il grembiule nero con un bel fiocco bianco, tutti uguali. Ah no, ho usato il pennino all'inizio con l'inchiostro. Dalla seconda, per un periodo, abbiamo usato, facevamo delle macchie sul quaderno. C'erano le carte assorbenti. Cosa ricevano le messe quando macchiavano i quaderni? Mi sa che ci sgridavano, eh. C'erano castighi, tipo, non so, quando facevate qualcosa di sbagliato. Oh sì, c'erano i castighi. A scuola ci facevano scrivere un brano 50 volte, il parroco di religione ci faceva copiare il brano del Vangelo 20-30 volte. Mi ricordo delle volte che rimanevamo su alla notte per finire il castigo, perché non avevi studiato. C'era la scuola dell'infanzia? Sì, certo, c'era anche la scuola dell'infanzia. Nel mio periodo era a Padrignone, dove adesso c'è l'ambulatorio medico. Eravamo tutti in una classe e eravamo anche parecchi bambini. Ma quanti amici avevi? Ah, tanti. Eravamo tutti amici. Più o meno quelli della nostra età, giocavamo tutti insieme. E rimanevamo sempre fuori. Si giocava poco in casa. Finita la scuola si andava fuori in cortile, si andava nel bosco. I nostri giochi erano quelli. Con cosa giocavate? Facevamo le casette nel bosco. Giocavamo con la palla. Giocavamo a nascondino. Giocavamo con la corda. Inventavamo sempre giochi per stare all'aperto. Con cosa era fatta la palla? La palla era di gomma come adesso. Quanti fratelli e sorelle avevi? Noi eravamo in quattro. Io sono femmina più tre fratelli. Qual era il tuo gioco preferito? Giocavamo con le bambole, a fare la casetta, come fossi una mamma adulta, invece ero una bambina. Che animali c'erano nei dintorni e quali potevano essere cacciati? Allora, gli animali che avevamo nelle stalle erano le mucche, c'erano i buoi che potevano servire anche per trainare, per andare in campagna. Poi per cacciare c'erano le lepri, cacciavano pure gli uccelli una volta, gli uccellini. Chi aveva la licenza di caccia prendeva i caprioli, i cervi, quegli animali lì. Qual era il tuo animale preferito? Il gatto, perché a casa mia ne ho sempre avuti due, tre, e allora il gattino me lo prendevo in braccio, me lo coccolavo, poi volevo fargli il bagnetto e automaticamente poi morivano, perché i gattini piccoli messi nella vasca con l'acqua fredda non è che resisteva. Ah, il gatto mangiava gli avanzi nostri, quando avevamo mangiato noi gli davamo quello che avanzava. Oppure il gatto usciva e si cercava il topo. Te c'avevi i conigli e ti piacevano i conigli? No, noi non avevamo né conigli né galline, avevamo una mucca sotto casa. Una mucca che faceva poi una volta all'anno il vitellino e era una festa perché c'era un'ansia per tutti quando doveva partorire la mucca, un clima proprio bello. E nasceva il vitellino. Dove partevate il latte? Venivano delle persone a comprarlo, non ne avevamo molto, però mi ricordo le bottiglie di vetro nell'entrata di casa mia, c'erano delle bottiglie e venivano le persone che l'avevano prenotato, venivano a prenderlo. In Pakistan sempre quando di mattina viene un signore a darci il latte con la moto e la mia nonna va con una tazza, tipo una cosa e lo va a prendere. Hai mai munto una mucca? No, non l'ho mai munta. Come sono cambiate le attività svolte dalle persone? Sono cambiate perché una volta il lavoro principale era il lavoro della terra e adesso i contadini sono diventati degli imprenditori, c'è la grande produzione degli innesti, ovvero vengono chiamati calmi, creano le piantine delle viti. Quanti anni si iniziava a lavorare? Si iniziava anche subito dopo le medie come ho fatto io, chi non aveva la possibilità o non aveva voglia più di studiare si cominciava subito a lavorare, a fare le stagioni negli alberghi, a andare a fare lavori di casa come ho fatto io e anche durante il periodo scolastico, chi studiava andava anche durante l'estate andavano a lavorare per avere un po' di indipendenza economica. Le donne potevano lavorare? Sì, avrebbero potuto lavorare ma la maggior parte delle mamme erano a casa perché probabilmente il marito poteva mantenerle come si suol dire e non sentivano il bisogno di uscire per lavorare. Cosa facevate oltre il lavoro? Ma si stava tanto in casa, non è come adesso che si va al cinema, si va al teatro, per esempio mia mamma era sempre a casa, ci portava spasso noi e basta. Chi aveva la macchina poteva permettersi di fare qualche gita nei dintorni, ma erano pochi quelli che avevano la macchina. Da ragazzi, anzi, si cominciava a socializzare tra ragazzi e ragazze, si formavano le compagnie, si facevano progetti, si parlava. Cosa mangiavate? Mi ricordo io soprattutto la polenta, si mangiava insieme a tante cose, dalle cose col sugo ai crauti, soprattutto la polenta. Cos'era il tuo posto preferito? Mi ricordo quando tornavo a casa che sentivo il profumo del baccalà che faceva mia mamma con la polenta sempre. C'era l'acqua in casa? Certo c'era, sì. Non sono proprio vecchia. C'era il water in casa? Non tutti avevano. Noi avevamo il gabinetto sul balcone e non tutti avevano il water o il bagno e si faceva il bagno una volta alla settimana in una tinozza. Cos'è la tinozza? In dialetto si chiama brenta, è un grosso secchio con i due manici dove si lavava la biancheria e poi serviva anche per lavare i bambini, per fare il bagno. Come usavate la tinozza? La tinozza si riempiva di acqua, acqua calda che si metteva sulla stufa legna e un bambino alla volta si immergeva, si lavava, poi la mamma lo faceva uscire, si asciugava e era pronta per il secondo figlio. Se eravamo in 3-4, pensa a te quante volte l'acqua veniva usata per i bimbi. E' così. Il bagno, il water di vostro tempo era separato dalla vostra casa? Era una piccola casa o era dentro la casa? Cioè chi lo aveva in casa il water, chi aveva fatto il bagno cominciava col water e era in casa, maggiormente era in casa. Come si vestivano? Ma più o meno come adesso, non avevamo tanti pantaloni, ecco forse, avevamo le nostre gonnelline, però abbastanza normale. E avevamo i calzettoni, non vedevamo l'ora che arrivasse la primavera per scoprirci le gambe, per poter mettere i calzettoni, per avere le gambe nude insomma. Come lavavate i vestiti? Anche a mano, si lavava tanto a mano alla fontana, perché la lavatrice sì c'era, ma si usava più per le lenzuola, per i bucati più lunghi. Le femmine si truccavano? Ma poco, non come adesso. No, le ragazzine no. C'erano le cose elettriche? Sì, c'erano. Gli elettrodomestici? Sì. C'erano le serie tv? Le serie tv? Sì, ci saranno state, ma io non ero attratta dalla televisione, preferivo andare a spazio. C'erano i videogiochi? No, non credo ci fossero, non mi risulta. E te ti sei sposata, ti sei sposata nella chiesa o...? Sì, mi sono sposata in chiesa. Che lavori hai fatto? Ho fatto delle stagioni, ho fatto la babysitter, ho fatto maggiormente quei lavori lì. Dopo mi sono sposata, ho sposato il nonno che è tapezziere, allora ho imparato il mestiere di tapezziere. Qual è il giorno della tua vita che ti è rimasto più impresso? Ci sono i momenti belli, i momenti brutti, quando ho perso la mia mamma, è un momento bellissimo quando sei nato te. Grazie. 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 Grazie.